Tutte le discipuline altre misca La recuperazione è la kinderina di Vigilato ma è subito Sorcenobo che si fa anche in corsa come la Fener Sorcenobo perdono dalla dorsa e cesta nell'ordine al passaggio campana ultimo giro e' il passaggio campana ultimo giro no vedi a Calerro la palaggissa cercherò la giro che tre giro che attrezzo della XVI e' il passaggio campana ultimo giro e' il passaggio campana ultimo giro e' il passaggio campana ultimo giro grazie grazie